Carenza di finanziamenti, burocrazia, questi due fattori principali che purtroppo sono la causa dei ritardi nella sistemazione di alcuni edifici scolastici in provincia di Teramo, la messa a norma in materia di sicurezza, l'innalzamento del livello antisismico. Ne sa qualcosa il presidente dell'ordine degli architetti, Raffaele Di Marcello. Non c'è un piano nazionale adeguato che permetta in tutta Italia di adeguare gli edifici scolastici alle moderne esigenze sia antisismiche sia di utilizzo degli spazi. In provincia di Teramo tanto è stato fatto, molto ancora c'è da fare, soprattutto per le scuole di proprietà dei comuni. In alcuni comuni scontiamo ancora ritardi nella costruzione di nuove scuole ampiamente annunciate, già progettate e finanziate, penso a Isola del Gran Sasso. Ci sono poi comuni fuori dal cratere, è il caso di Giulianova dove ci sono alcune scuole chiuse definitivamente, come nel caso della Pagliaccetti o della scuola di Colleranesco, i cui lavori vanno avanti a rilento per deficienze costruttive. Serve però un'azione concreta che vada oltre il sistema locale. Bisogna fare un'azione a livello provinciale, a livello regionale, a livello nazionale affinché i nostri figli abbiano la stessa sicurezza che poi lo Stato pretende per qualsiasi industria, qualsiasi capannone produttivo e invece pretende molto meno per le strutture dove vanno i bambini che poi sono di competenza dello Stato o dell'emanazione dello Stato. A Giulianova comunque si è già deciso che dovrà essere realizzato un nuovo plesso scolastico nell'ex Palazzo di Giustizia. Si tratta di un edificio chiuso ormai da anni. Serve però una progettazione. L'ipotesi più concreta è che si possa procedere con un abbattimento completo dello stabile. Siamo ancora al punto di progettazione preliminare per avere i finanziamenti. È stato assicurato che i fondi ci sono. C'è questo progetto ampiamente preliminare che fra l'altro era stato chiesto da più parti di discutere con la popolazione ma pare che il Comune voglia andare avanti. Comunque anche se così fosse noi chiediamo che si faccia presto perché i bambini non possano aspettare. Attualmente sono allocati nelle scuole aperte anche quelli che frequentavano le scuole medie e la scuola di Colleranesco. Quindi sicuramente non in una situazione ottimale. È bello leggere le linee guida del Ministero che descrivono un quadro paradisiaco e sicuramente da raggiungere per le scuole. E poi invece vedere la realtà dove i bambini sono ammassati in aule anguste, non adatte alle nuove tecniche pedagogiche e soprattutto non salubri per la crescita dei nostri figli, sia fisica sia intellettuale.